Che l'India già abbonda di cristalli, in vano greci e romani cercano versetti, per irritare il profano e gli idioti. Si scalbarano gli animi sotto la capa. Siccome a Chandr-Nagor il villano sa di cacca, a memoria un'iscrizione etrusca è incisa. Se la critica lucida vede ciò che risalta. Se l'Europa lo vuole, l'Europa o il suo destino.